Grandiosa, bellissima, illustre, storica e soprattutto pesantissima vittoria della nostra Under 21 nella gara inaugurale di questo europeo casalingo che è spietato nella sua formula perché passano solo le prime classificate dei tre gironi più la miglior seconda, si va direttamente alle semifinali e quindi per questo è una vittoria dall'importanza veramente capitale per il gruppo di Di Biagio una vittoria meritata, una vittoria arrivata contro un avversario che sulla carta si poteva pensare che fosse addirittura più forte forse non solo sulla carta, insomma una vittoria rotonda, piena, una vittoria da archiviare, su cui costruire perché è appunto la prima partita e ce ne dovranno essere delle altre dello stesso livello ma una vittoria che ci dà la conferma del fatto che questa Under 21 può veramente farci sognare una vittoria che è stata di carattere perché è arrivata in rimonta appunto contro una grande Spagna una Spagna che nel primo quarto d'ora, nei primi 20 minuti, forse anche nei primi 25 sembrava quasi di un'altra categoria rispetto alla nostra Italia e allora in qualche modo poteva materializzarsi un rischio evidenziato, sottolineato, annusato alla vigilia ovvero quello che l'Italia si specchiasse un po' troppo nei suoi valori e ricevesse subito alla prima partita una ridimensionata pericolosa così non è stato l'Italia ha reagito grazie al suo carattere grazie a un'unità di gruppo veramente forte, veramente visibile in ogni passaggio che è riuscita anche a sopravanzare quelli che sono i valori tecnici globali perché ripeto, la nostra nazionale è forte ma la Spagna non è sicuramente meno forte anzi, forse lo è un filo di più una vittoria arrivata anche grazie alla reattività tattica del nostro CT e del suo staff perché Di Biagio è stato molto bravo a modificare lo schieramento iniziale il sistema di gioco iniziale apportando quella variante che ha permesso di ribaltare lo sviluppo della partita perché avevamo iniziato con una sorta di 4-3-1-2 la posizione di Zaniolo abbastanza centrale come vertice alto di centrocampo con Ken a fare la punta e Chiesa il secondo attaccante dopo complice anche l'infortunio di Zaniolo che non riusciva a trovare una posizione e poi ha dovuto uscire prima dell'intervallo per un colpo subito alla testa ma era già stata fatta la modifica tattica di Di Biagio con lo spostamento di Chiesa verso sinistra l'allargamento di Zaniolo a destra in un vero e proprio 4-3-3 e poi la presenza addirittura di Orsolini un uomo di ruolo in quel settore ha permesso all'Italia di prendere il campo di schiacciare la Spagna di andare a premere sui suoi punti deboli di ribaltare e di vincere meritatamente la partita una vittoria che oltre a tutto questo è anche la vittoria di un singolo su un altro singolo forse i due migliori giocatori di questo europeo sicuramente due elementi già da grandissimo livello nel calcio senior non solo nel calcio giovanile ovvero Chiesa e Sebaios Sebaios ha aperto Chiesa però ha ribaltato la partita se l'è presa, se l'è portata a casa e ha dimostrato ancora una volta di essere veramente il miglior virgulto il miglior talento emergente del nostro calcio ma talento emergente è un qualcosa di assolutamente riduttivo questo è un calciatore pronto già oggi per essere uno che dà del tu a chiunque al massimo del livello la partita era iniziata abbastanza male la Spagna è andata in vantaggio subito con un gran gol di Sebaios i movimenti dell'andaluso in uscita dal Real Madrid e ribadisco una cosa che vi ho già detto chi quest'estate dovesse fare un investimento importante ma dovesse mettere le mani su Sebaios andrebbe a prendere veramente un grande giocatore insomma questo gol aveva un po' abbacchiato l'Italia un'Italia che faticava a sciogliersi faticava ad entrare nella partita faticava a leggere i movimenti del numero 10 un giocatore che vive in funzione del pallone Sebaios deve essere quello attorno a cui ruota tutta la partita lo segue, lo va a prendere sta aumentando anche il proprio grado di pericolosità perché non è un grandioso assist man però sta migliorando molto nella conclusione e lo ha dimostrato impallinando subito Meret con un capolavoro balistico Spagna che però si è 1. un filo accomodata su questo ottimo avvio 2. non è mai riuscita ad essere una squadra corale in attacco perché? perché l'unico giocatore non di livello assoluto nell'undici spagnolo è proprio il centramanti Borca Mayoral si era già visto a Real Madrid che non poteva essere un'alternativa credibile a Benzema e quest'anno in prestito a Levante Borca Mayoral non ha dato molto di più anche per qualche problema fisico però non credo che il canteranno madridista sia a livello di altri compagni poi De La Fuente ha fatto un po' di confusione al primo tempo ha mandato Solerra a giocare a sinistra e Ollar Sabal a destra quando solitamente i due giocano su fasce opposte non sono mai riusciti ad approfittare anche di qualche tentennamento degli esterni difensivi azzurri soprattutto di Di Marco sul settore di sinistra Fabian Ruiz è uscito all'intervallo per l'ingresso di Merino insomma la Spagna non ha tenuto in mano la partita se l'è ripresa l'Italia con la modifica tattica di cui vi parlavo che ha permesso non solo a Chiesa di andare a sinistra di essere ficcante di andare a puntare a Ron che è un terzino molto bravo in proiezione un filo meno nelle tecniche pure di difesa ma ha permesso anche a Pellegrini che fin lì era un filino schiacciato un filino tappato proprio dalla presenza di Zaniolo davanti a lui di avere la possibilità di andare a ricevere il pallone più avanti e di fare quella che è la sua miglior specialità ovvero l'inserimento infatti da una sua rincorsa da un suo arrivo da lontano è arrivato il calcio di rigore che ha permesso a lui stesso di chiudere la partita con una battuta di grande stile e di grande freddezza l'uomo della partita però è stato Federico Chiesa il gol del pareggio è stato anche abbastanza fortunoso nell'esecuzione finale perché io penso che l'obiettivo primario di Chiesa fosse il cross più che il tiro Unai Simon che è un buon portiere al di là di questo errore gli ha lasciato spazio sul primo palo anche un leggero colpo da parte del terzino avversario gli ha permesso di arrivare a questo tipo di conclusione sporca ma vincente però tutte queste considerazioni sul fatto che il gol di Chiesa possa essere un filo fortuito decadono quando si vede, si rivede, si ammira, si riammira lo stop di Chiesa su un gran cambio di campo di Barella stop veramente da campione da giocatore che ha dentro di sé quelle qualità e anche quella naturalezza di espressione che permette veramente di andare al di là della normalità poi il gol del raddoppio quello del sorpasso quello del 2 a 1 ha mostrato le anime principali di questa squadra la prima è la fame la fame personificata da Patrick Cutrone che è entrato al posto di Ken che non ha giocato una grandissima partita ha sofferto nella prima mezz'ora come tutta la squadra non è riuscito a scuotersi è uscito anche un po' arrabbiato questo ragazzo ha veramente delle grandi prospettive ha delle qualità fisiche ma anche tecniche e temperamentali che lo possono portare a diventare un grande centroavanti però deve sfruttarle deve imparare a incanalarle deve imparare a gestirle perché uscire arrabbiato in un momento del genere è vero che non ha fatto nessun tipo di polemica però il suo volto era chiaramente contrariato e deve capire che ha tanto tempo davanti ha dei compagni che meritano dello spazio nessuna parte eternale nei confronti di Ken però in questi suoi mesi di imposizione è risultato abbastanza chiaro come dal punto di vista della gestione mentale debba fare degli sforzi debba crescere è anche fisiologico che un ragazzo così giovane nato nel 2000 debba maturare sul piano caratteriale dunque la fame personificata da Cutrone l'insistenza ovvero la caratteristica principale di Barella centrocampista che con la nazionale maggiore così come con l'Under 21 riesce sempre a dare tutto riesce sempre a macinare gioco a mettere sostanza a mettere anche della qualità anche se poi il suo intervento nell'azione del raddoppio è stato un rimpallo però è un rimpallo che non è casuale non è un rimpallo che arriva dal nulla che piove dal cielo è un rimpallo che si trova andando a ringhiare non mollando andando a credere alla possibilità di battagliare di giocare questo pallone e poi il killer instinct infinito di Chiesa sempre nel posto giusto al momento giusto gol fortunosi gol facili ma gol 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 per il giocatore della Fiorentina la chiusura firmata da Pellegrini un 3-1 che ha messo in ottima evidenza anche le qualità di Meret è una parata fondamentale soprattutto su una affiondata dal limite di Soler nel momento in cui la Spagna cercava di reagire ha messo in evidenza la capacità di essere impattante di Orsolini Orsolini che già nel mondiale under 20 che ha giocato era diventato capocaroniere e ha dato la sensazione con i pareta di essere un giocatore potenzialmente dominante con Mijajlovic a Bologna e anche Fiorito nel calcio dei senior in Serie A credo possa essere un uomo molto importante per questa nazionale Orsolini anche perché giocando così è veramente di ruolo come vi dicevo prima come esterno destro d'attacco note positive per praticamente tutti i giocatori azzurri Mandragora ha faticato un po' nel tamponare Sebaios ma credo che fatichi chiunque si ritrovi ad essere opposto al numero 10 spagnolo qualche piccolo tentennamento per Di Marco la difesa però globalmente a retto e abbiamo una difesa che si impernia su un giocatore che io sono convinto possa farsi veramente un grande nome come Mancini soprattutto quel che conta è il risultato perché l'Italia si è presa i tre punti contro la squadra più forte del girone dovrà confermarsi soprattutto contro la sorprendente Polonia che ha battuto il Belgio però aver vinto così contro la Spagna diciamo che ci permette di partire veramente forte di partire veramente al meglio guardia alta perché le insidie in un torneo del genere sono veramente non in ogni partita ma in ogni passaggio in ogni minuto però in questo caso non solo ci prendiamo il risultato ma ci prendiamo anche la prestazione volevamo un'Italia forte un'Italia in grado di farci sognare ecco ce l'ha servita il Dallara ce l'ha mostrata speriamo che questo sia solo l'inizio ma come inizio è veramente grandioso un'Italia in grado di farci